Musica Ben ritrovati con l'informazione, la cronaca nera, un uomo di 49 anni, Antonio Salvadego di Saonara, ha coltellato questa mattina l'ex convivente di 48 anni colpendola ad una scapola e quindi con la stessa lama si è inflitto due colpi all'addome, poi è stato fermato e quindi condotto all'ospedale. Vittima e aggressore non sarebbero in pericolo di vita, l'episodio è avvenuto questa mattina alle 8.15 ad Albignasego, proprio in provincia di Padova. Dopo l'aggressione l'uomo ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato dopo una cinquantina di metri da una pattuglia della stazione dei Carabinieri di Albignasego e dalla polizia locale intervenute su segnalazione delle persone che hanno assistito al fatto. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso di Padova, la posizione dell'aggressore al baglio degli investigatori e della Procura della Repubblica per i provvedimenti da adottare. Appuntamento a Selvazzano dove un grossista di droga lo ha raggiunto con la sua auto imbottita di stupefacente. Non sapevano però che a osservarli c'erano le fiamme gialle che hanno interrotto la cessione e quindi ha arrestato Henry Oxa e Amarild Meidai, 29 anni, albanesi. Da tempo i militari pedinavano Oxa, sospettato di essere un corriere della droga. Lo hanno seguito fino a Selvazzano dove ha parcheggiato in via Campania la propria auto. Ed è stato raggiunto dal Mediai i momenti successivi che non hanno lasciato dubbi agli inquirenti. Sono stati appunto lo scambio di droga. Ebbene, recuperati dai finanzieri ben 5 panetti con 2,5 kg di eroina, oltre a 200 g di cocaina. Nel cruscotto c'erano invece due cellulari di cui il 29enne organizzava i vari traffici e 320 euro in contanti. Molto simile anche il materiale recuperato a casa dei Mediai. 4 g di cocaina, 5 di marijuana, 3 smartphone, 200 euro, oltre ad un calzino con dentro della polvere usata per tagliare eroina e cocaina da vendere poi al dettaglio. Il primo test immediato ha segnalato essere un derivato dell'oppio. Le indagini ora proseguono per ricostruire la filiera della droga. E la voce di una coppia di padovani con un notevole giro di clienti si era ormai diffusa in tutto il piovese. Le indagini dei carabinieri hanno raccolto elementi importanti al loro calico e un controllo a sorpresa ha dato la conferma decisiva. Sono finiti in manette così CQ di 50 anni e GR di 42. Dopo averli tenuti sotto controllo, giovedì i carabinieri hanno programmato un appostamento fuori dall'abitazione del 50enne, proprio a piove di sacco. Hanno atteso l'arrivo del complice entrando in azione e fermandolo. Il 42enne aveva addosso 16 grammi di cocaina, la stessa sostanza recuperata anche nell'abitazione del 50enne. Il soccorso ad una persona in difficoltà in un laghetto d'acqua risorgiva molto fredda nel buio della notte. Questo è un addestramento notturno a cui hanno preso parte ben 18 vigili del fuoco, soccorritori acquatici e operatori sperio nella serata di ieri. Gli operatori dei vigili del fuoco, dei comandi di Padova e di Vicenza, si sono trovati al calar del sole presso la Busa Giaretta, a Camazzole, una vecchia cava dove si estraeva la ghiaia. Ora il laghetto, già teatro di diversi eventi funesti e dove vige il divieto di balneazione. I soccorritori hanno messo in pratica alla sola luce delle torce diverse manovre di salvataggio. L'addestramento iniziato al tramonto si è concluso a notte fonda. Multa di 400 euro se si viene sorpresi a bestemmiare contro le divinità di qualsiasi credo o religione in un luogo pubblico. Lo stabilisce il nuovo regolamento di polizia urbana adottato dal comune di Saonara, un piccolo centro della provincia di Padova. La stretta del tupiloquio è stata decisa dall'amministrazione guidata dal sindaco Walter Stefan e definisce nel testo le bestemmie in pubblico come atti contrari alla pubblica decenza e alla sensibilità di persone terze presenti. Al di là degli aspetti religiosi, è un fatto culturale e riguarda ogni divinità, ha detto il sindaco. È necessaria un'educazione di base che ormai manca da troppo tempo. Traffico da Bollino Nero domani invece sulla rete autostradale del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, gestita da Autovie Venete in vista dell'esodo dei vacanzieri. Già oggi pomeriggio, transiti sostenuti soprattutto lungo la 4 in direzione Trieste. Osservato speciale sarà il casello di Trieste-Lisert da dove transitano i turisti diretti in Slovenia e in Croazia. Sotto pressione anche il tratto tra Sandona di Piave e il nodo di Palmanova, sempre in direzione Trieste. E traffico intenso sulla A57 tangenziale di Mestra in entrambe le direzioni. Domani, fin dalle prime ore del mattino, potrebbero verificarsi rallentamenti e code sulla A23 in direzione Palmanova, probabili congestioni in più punti della A4 tra Venezia e Trieste, e code ai caselli in direzione delle varie località balneari. Traffico da Bollinorio Rosso, invece, anche domenica in A4 e anche in A57 in entrambe le direzioni di marcia. Chi ama Padova non può non dare un'occhiata all'ex forboario in Prato della Valde e ai lavori che avanzano per ristrutturare un pezzo della nostra storia. E' bene risottolineare che i lavori procedono per lotti e continuano tutta la stagione estiva e anche in quella autunnale. In concomitanza anche i lavori di restauro delle statue, ben 29 e 4 obelischi, continuano ad essere attuate. Fino ad oggi sono già state restaurate 25 statue ed altre 15 dell'ultimo lotto, complessivamente le statue in Prato della Valle, che beneficeranno dell'opera di restauro su 78 presenti, sono 40 e i 4 obelischi sugli 8 presenti. Vediamo. Assessore, un po' alla volta a Prato della Valle le sue statue tornano all'antico splendore? Beh sì, in questi due anni siamo riusciti a restaurare le prime 40 statue, altre 13 sono in corso di restauro e abbiamo restaurato anche ben 4 obelischi. Mancano 25 statue e 4 obelischi. La cosa positiva è che il progetto di riqualificazione delle statue si inserisce nell'ambito di una progettualità più vasta che prevede il restauro complessivo dello scenario della piatta, di Park Rabin. Direi che i due progetti si tengono l'un l'altro, un grande ristorante, una banca, attività commerciali da un lato che hanno permesso la rigenerazione di questo spazio e le statue che sono state restituite a nuova vita. Le statue sono un po' un compendio della storia padovana, del mito fondativo, da Antenore, da Opsicella, altro troiano che fonda Monsedic, il grande Tito Livio, Petrarca, Lodovico Buzzaccarini, i grandi papi, le personalità che hanno segnato dapprima la storia padovana e poi quella veneziana. Restituirli ai padovani e ai turisti è una grande operazione di politica culturale e volendo gli imprenditori, i cittadini padovani possono collaborare alla politica di restauro con un piccolo contributo. Ogni statua costa 15.000 euro, ma è defiscalizzabile al 65% grazie a Dart Bonus. Quindi il mio è un appello a tutti coloro che a vario titolo vogliono collaborare a rendere più bella la nostra città. Ricordiamo che l'importo complessivo dell'investimento è di 540.000 euro, di cui 350.000 euro saranno assicurati appunto dall'Art Bonus. Sono ripartite da oggi pomeriggio le operazioni con il picco di marea per il recupero della nave mercantile Amira Joy, rimasta incagliata proprio sul fondo sabbioso all'entrata di Porto a Chioggia. L'imbarcazione è battente bandiera panamense, proveniente però dalla Turchia, lunga 132 metri, con 15 persone di equipaggio e carica di gusci di vongole. Dalle prime informazioni sembrerebbe che durante l'operazione di Traino un cavo di un rimorcatore posto a prua della nave si sia appunto rotto. Ieri mattina invece un cantiere di Terna, la società di distribuzione dell'energia elettrica, ha causato il ristringimento improvviso ad una sola corsia della carregiata verso nord in Corso Australia, provocando un notevole disagio al traffico Corso Australia, ovviamente pur essendo parte della tangenziale cittadina, è un tratto stradale di competenza non dell'amministrazione comunale ma di Veneto Strade, a cui si è rivolta ovviamente Terna per avere l'autorizzazione dei lavori, senza purtroppo informare per tempo e coinvolgere il comune di Padova. Ovviamente informato del cantiere e delle code che si sono formate, l'assessore ai lavori pubblici Michaelizzi si è messo in contatto con Terna e Veneto Strade, convocandoli immediatamente per un incontro in municipio, tuonando la frase non è possibile che noi non veniamo informati se non a cantiere aperto e che non sia stato possibile ragionare su come affrontare una situazione che era logico potesse creare dei grossi disagi. Il cantiere oggi era chiuso e la viabilità regolare, ci sarà il tempo di organizzare una diversa modalità dei lavori con un raddoppio delle squadre in cantiere, una durata minore dei lavori e una limitazione dei disagi per tutti gli automobilisti. Intanto il cantiere riparterà quindi lunedì prossimo. Questa notizia invece ha dell'incredibile perché capita dove? A Rovigo, dove un operaio di origini marocchine in Italia da 15 anni, dopo aver preso più volte con la propria auto una buca davanti alla propria casa e nonostante vari appelli alle istituzioni, nessuno andava a sistemarla e così lui stesso ha coperto la buca mettendo la strada in sicurezza. Si è trovato ora da pagare un'ammenda da 600 euro che se pagata entro una settimana sarà appunto di 600 euro, altrimenti volerà a 850 euro, con l'obbligo anche però di ripristinare proprio la buca. Follie della burocrazia e delle persone che la amministrano? Beh, proviamo a chiederselo. Sarà operativo dalle ore 8 di domani, sabato 27 luglio, il distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco di Rosolina. Il presidio estivo, come negli anni scorsi, incrementerà il livello di sicurezza dei residenti e dei turisti su tutta la pascia costiera. Il direttore interagionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e del Trentino Alto Adige, Loris Munaro, che ha intervenuto prendendo la parola, ha parlato di quella importanza che appunto è quella della safety e della security. Ha aggiunto la sicurezza in un territorio turistico è proprio il bollino blu, perché i turisti danno un'importanza fondamentale a questo valore nella scelta dei luoghi di villeggiatura. Parliamo di Confindustria Veneto che rilancia il progetto Industria 4.0 con un sito che raccoglie le 100 milioni storie di successo nelle proprie imprese regionali e un road shop da settembre con porte aperte per illustrare le esperienze pilota che hanno effettuato quello che viene definito come un cambio di paradigma. Sono finora 17 le imprese e le cui storie di successo 4.0 sono raccontate su un sito 100luoghiindustria4.0veneto.it Dopo la fase di start-up sarà possibile per tutte le aziende cadinarsi e trovare posto all'interno di questa mappa interattiva. Parliamo di Violino Mistico che è il titolo del concerto che si terrà il 2 agosto alle ore 21 ad Asiago, nel Vicentino, al teatro Millepini, Palazzo del Turismo. Nell'ampio panorama delle montagne venete, l'altopiano dei sette comuni conosciuto come l'altopiano di Asiago con la sua natura incontaminata rappresenta una delle località più eleganti e delle mete più ambite sia dal turismo invernale che da quello estivo. Ebbene ci sarà il suono di uno Stradivari che risuonerà ad Asiago la sera del 2 agosto. Si tratta di un violino 1716 ex Napoleone, oggi affidato al talento straordinario di Anna Tifu. Parlando di Anna Tifu, dire talento straordinario è perfino sottodimensionato. Non saranno comunque soltanto Bach e Sarasad ad esaurire il ricco programma del prossimo 2 agosto, ma anche altre autentiche chicche musicali, tra le quali una sinfonia di Vivaldi e il suggestivo concerto in sol maggiore RV413 per violoncello e archi, sempre di Vivaldi. Parliamo di notturni d'arte. La spiritualità antoniana si incontra con l'arte, martedì 30 luglio, dalle ore 21 presso la Basilica del Santo, nel nuovo appuntamento dei notturni d'arte. Sarà possibile infatti immergersi nel percorso multimediale dedicato alla vita e alle opere del Santo e visitare con una guida all'esposizione del Santo di come era appunto la presentazione della Basilica allestita attraverso appunto il Museo Antoniano. Il nuovo percorso multimediale inaugurato già nel settembre scorso si sviluppa su circa 1000 metri quadri e si configura come spazio visivo e sonoro immersivo che accoglie i turisti e i pellegrini in visita al Basilica. Bene, chiudiamo il nostro giornale con l'ultima notizia. Prima del prossimo Consiglio Comunale, convocato per lunedì 29 luglio dalle ore 18, in apertura dei lavori, l'assessore allo sport Diego Bonavina premierà Silvia Bennardo e Alice Calcagni che sono le atlete padovane della nazionale volei femminile sorde campione d'Europa. E se abbiamo parlato di lavori in corso lunedì appunto 29 luglio in corso Australia, attenzione perché martedì 30 luglio sempre in corso Australia all'Euganio di Padova arriva Sting, un grande evento che ovviamente sarà l'ultimo grande appuntamento all'Arena Live nell'estate degli eventi che vedrà appunto protagonista Sting. Il nuovo tour europeo del cantante inglese celebrerà appunto il suo ultimo concerto martedì 30 luglio. La nuova tournée dell'artista si concentra sulla sua prolifica carriera come solista e frontman dei police. Oggi è stato presentato anche il piano soprattutto della viabilità che circonderà appunto l'Euganio. Vediamo. È un evento siamo particolarmente orgogliosi perché Sting è un'istituzione musicale internazionale. Infatti il pubblico che arriverà per questa iniziativa che è praticamente sold out, è un pubblico che proviene da tutta Italia ma anche da tutto il resto del mondo. Abbiamo delegazioni russe, americane, francesi, austriache. Veramente questo artista è un catalizzatore di pubblico da tutto il mondo. Ed è un evento chiaramente particolarmente delicato, di difficile gestione anche perché abbiamo venduto posti seduti numerati anche ad importi importanti. Quindi è un pubblico esigente. Il consiglio che diamo è quello di arrivare con congruo anticipo, quindi già verso le 6.30-7 essere all'arena, spettacoli. Non preoccupatevi per il caldo, abbiamo attrezzato delle aree riparate dal sole e ventilate dove potrete ristorarvi e aspettare appunto l'accesso definitivo alla sala. Anche perché ci sono operazioni di controllo e di sicurezza ormai di routine che impiegano un po' di tempo. Ci dispiacerebbe creare dei disservizi non voluti proprio perché non è stato previsto questo arrivo anticipato presso la struttura. I parcheggi li abbiamo strutturati ovviamente adiacenti alla struttura, consigliando però di fare un carpooling, quindi di arrivare in più persone all'interno della stessa autovettura perché i posti sono contingentati. Così come di utilizzare il parcheggio allo stadio, lo stadio Ugane che è qui a pochi metri di distanza e che sarà collegato in modo continuativo alla struttura con un servizio di bus navetta. Oppure a piedi anche in 25 minuti si può raggiungere, in ogni caso c'è il bus navetta. È tutto perfettamente calcolato, anche un servizio di bus navetta dal centro città della stazione, su prenotazione questo. È possibile quindi arrivare all'evento in più modi e poter avere anche il parcheggio. L'importante è arrivare per tempo, consigliamo ovviamente ai cittadini di dare massima ospitalità agli ospiti da tutta Italia e dall'estero che arriveranno, quindi di lasciare i posti vicino alla struttura, magari a loro e di raggiungere il teatro con i mezzi alternativi o a piedi, sarà una bella serata. L'organizzazione chiede la massima collaborazione per questa iniziativa. È un evento non nostro, un evento del territorio, della città e cerchiamo di dare questa ospitalità anche in termini di servizi e di fruizione. È tutto per questa nostra edizione del giornale. L'appuntamento come sempre alle prossime edizioni. Vi ricordo come sempre anche il nostro sito www.kftv24.it per rimanere costantemente aggiornati. www.kftv24.it